La vita di Murphy medievale gravitava tutto intorno al suo castello. Nel borgo vivevano colonne, artigiani e militari a servizio esclusivo di esso. Nell'oderno nucleo centrale di questo maniero si riconoscono i tratti dell'originaria fortezza normanna eretta nel 1041 su una preesistente rocca bizantina dal Guglielmo Braccio di Ferro e ricostruita a suo fratello Roberto di Guiscardo, in una posizione che era strategica in quanto al confine tra Campania e Puglia. Due furono in particolare gli interventi architettonici più rilevanti che diedero nel tempo al castello le forme e l'imponenza attuali. Il primo è da tribunersi a Federico II di Svezia nel XIII secolo. Infatti, egli fece costruire una grandosa doppia cortina muraria difesa da numerosi torrioni e fece scavare attorno il grande fossato per rendere la fortezza più inesponiabile. Mentre all'interno venivano creati gli ambienti di servizio come le stanze per la guarnigione, una nuova sala del trono resa indispensabile dalla sontuosa vita di corte e dal ruolo più importante del regno. Le stanze dell'amministrazione poi stalle, cisterne, prigioni, tutti ambienti che si affacciavano sui sette cortili interni. Quando poi in seguito Melfi fu data in feudo a importanti e nobelissime famiglie quali la Cioioli, Caracciolo e Doria, si resero necessari contrari lavori per trasformare la fortezza in palazzo signorile. Oggi, pur conservando il suo aspetto prettamente medievale, il castello porta i segni di tutti i successivi interventi strutturali avvenuti nel costo di almeno cinque secoli, gli ultimi dei quali risalenti al Cinquecento. Ne risulta la mancanza di una pranimetria unitaria e una molteplicità di stili. Nella sua forma attuale, infatti, il castello la pianta di un poligone regolare con dieci torri, tre delle quali pentagonali e le altre quattro quadrate o rettangolari. Il castello di Melfi fu teatro di venti storici durante l'era normanna e federiciana. Infatti, a Melfi, sede della contea di Puglia, si tennero cinque concili ecumenici, organizzati da cinque diversi pontefici tra il 1059 e il 1137. Nicolò II, nell'estate del 1059, soggiornò nella rocca fortificata dove in giugno stipulò il stato di Melfi. Poi, dal 3 al 25 agosto, celebrò il primo concilio di Melfi e, infine, il concordato di Melfi riconobbe i possedimenti conquistati dai normanni, nominando Roberto Guisgardo, Duca di Puglia e Calabria. La città di Melfi, che attraversava un periodo storico importante, fu promossa capitale del Ducato di Puglia e Calabria. Poi, Papa Alessandro II, dal 1 agosto 1077, presidette il secondo concilio di Melfi. Ricevete il principe Legobardo di Salermo, Gisulfo II e i fratelli Roberto Guisgardo e Ruggero d'Altavilla. Nel corso del III concilio di Melfi, nel 1089, Papa Urbano II, oltre ad esaminare questioni ecclesiastiche, come il celibato dei preti, esultò ad un pellegrinaggio armato, così inizialmente venne chiamata la prima crociata in Terra Santa. Esultazione che sarà rinnovata al concilio di Clemore e diretta specificamente ai nobili, che avrebbero dovuto essere essi stessi pellegrini, ai quali era promessa l'assoluzione di tutti i peccati senza altra penitenza. Ma il primo ad accogliere questo invito, formarono un'armata di poveri e gente raccoglieticcia, prima di esperienza militare, anche se animata da un iniziale forte ardore religioso. Questa crociata, detta dei Pezzenti, condotta da Pietro l'eremita, finì rovinosamente come era da prevedere. Nel 1101 il Papa Pasquale II convincò il IV concilio di Melfi e infine Innocenzo II nel 1131 celebrò il V concilio di Melfi, ultimo della serie. Vi fu anche nel 1130 un concilio di Melfi non riconosciuto dalla Chiesa perché organizzato dall'antipapa Anacleto II, che istitui il regno di Sicilia. Quando poi a Normanni succedetero gli svevi, re Federico II, pur privilegiando Palermo e Napoli, ove iniziava la fondazione dello studium, volle promulgare da Melfi un codice di leggi unico per il regno di Sicilia, un'opera di enorme importanza nella storia del diritto, con il nome ufficiale di Costituzione se regni utriessi che Sicilie, dette anche Costituzione Augustale so di Melfi. Estensore perde le vigne, il codex ricevete anche il contributo del sovrano e di tutta la corte. Le Costituzioni miravano a non limitare i privilegi delle famiglie nobili e dei prelate e in particolare prevedevano la partecipazione delle donne in caso di successione dei feudi. Il sovrano svevo amava trascorriere Melfi, Castello San Gervasio e Lago Pessole, i suoi momenti di riposo essendo appassionato falconiere. L'importanza storica del castello però in un certo senso finì con la caduta degli svevi. Con l'arrivo delle Angioini, infatti, la capitale fu trasportata a Napoli e Melfi scivolò sempre più in secondo piano, anche se il castello continuava a vivere, ampiamente ristrutturato. Nel periodo aragonese fu testimone di riunioni durante la sanguinosa congiura dei baroni contro il referrante d'Aragone e suo figlio. Nel corso poi della guerra tra Francia e Spagna per la conquista del regno di Napoli, l'esercito francese di Pietro Navarro del maresciallo Dedefois fu compiuto il corrento assedio di Melfi, passato la storia come la Pasqua di sangue. La popolazione fu massacrata e in gran parte il principe di Melfi, assediato nel castello, si arrese. La città, saccheggiata e incendiata, fu abbandonata per mesi da melfitani che ancora ricordano la fuga nel Vulture con l'annuale processione della Pentecoste. Gli aragonesi vincitori dovettero ricorrere a particolari incentivi per ripopolarla. Nel 1531 l'imperatore Carlo V donò il principato di Melfi a Filiberto di Charlona e poi al principe Andrea Doria assieme a 25.000 scudi. Dopo di allora la popolazione, oppressa dalle tasse, conobbe una crescente povertà, divenendo nell'Ottocento anche terra di brigantaggio. Nell'ultima parte del secolo scorso, Melfi ha iniziato a risollevalsi grazie alla presenza di alcune industrie. Il castello Normanno Svevo, donato nel 50 dei Dori allo Stato, ospita ora il Museo Nazionale del Melfese, sistemato all'interessale del piano terra e conserva reperti ecologici a partire dall'epoca preistorica. Nella torre vicino all'ingresso è conservato il sarcofago di Rampolla, meraviglioso capolavoro opera di artisti dell'Asia minore. Vuoi informarti, informarti e orientarti nel caos contemporaneo? Ascolta radionomalibera.org, la prima emittente di podcast cattolici in Italia. Per saperne di più visita il sito www.radionomalibera.org.